Non so quanto la parte politica ci darà, noi da anni siamo sempre lì pronti, è un po' come le olive la politica, certi anni dà, certi anni non dà, a volte sono talmente noiosi che, voglio dire, quando a Renzi si è sostituito Gentiloni i satirici italiani hanno tentato il suicidio tutti.